Ma Chiara Ferragni, vedi quella lì, che è abituata a un successo continuo da tempo, è stata molto fascista e ti dico un aggettivo che non si usa più, terribile. Certo, ma Chiara è una ragazza molto intelligente. No, è una povera vecchia che fa 27 followers. Ho detto quello che mi sentivo di dire.